Va bene, qui adesso viene il difficile, cercheremo di andare piano anche perché non ho molte trasparenze. Va bene, ma io volevo cominciare a dirvi qualcosa sull'entropia, cioè sulla termodinamica e cercando di raccogliere un certo numero di concetti che sono necessari per capire questa cosa. Dunque, forse saprete che sulla tomba di Boltzmann l'epitaffio è semplicemente questa formula, S uguale K logaritmi W, e infatti Boltzmann è la persona che ha decifrato il mistero dell'entropia, che era stata introdotta con il ciclo di Carnot, eccetera, eccetera, con puri argomenti diciamo termodinamici, ma aveva un significato che sfuggiva a tutti. In particolare quello che sfuggiva è la famosa legge dell'aumento dell'entropia, cioè un sistema isolato, universo, l'entropia non può che aumentare. Questo naturalmente è in buon accordo con i dati sperimentali, perché noi vediamo che c'è una tendenza dei fenomeni fisici ad andare in una certa direzione. La formula di Boltzmann dà una spiegazione, cioè l'entropia misura la complessità di un sistema. V doppio è il numero di stati microscopici che corrispondono ad un unico stato macroscopico. Se avete un gas, il gas è caratterizzato da pochi parametri, la pressione, il volume, quante molecole ci stanno, ma se voi poteste vedere il gas su scala microscopica vedete che ci sono una grandissima quantità di moti di queste molecole che sono diversi tra di loro e che tutti corrispondono alla stessa cosa. Allora, il volume di questo spazio delle fasi, come si chiama tecnicamente, è questo W e l'entropia è tanto più grande quanto più grande è W. Naturalmente quanto più grande è W, tanto maggiore è la probabilità che il vostro sistema stia in uno di quegli stati lì. La delta S è maggiore di zero, la legge di aumento dell'entropia è spiegata dal fatto che un sistema evolve verso stati più probabili, ovvero stati che si possono realizzare in modi crescenti, in un numero di microstati crescente. L'esempio che viene sempre fatto è che un uovo può cadere e rompersi ma non avete mai visto una frittata che si ricompone nell'uovo di partenza. Nonostante che tutto fa pensare che le leggi microscopiche che regolano gli atomi dell'uovo e della frittata sono delle leggi perfettamente reversibili. Anzi, a questo era stato dato da Poincaré una sistemazione classica, il teorema di Poincaré, che afferma che ogni sistema meccanico ripassa per lo stato iniziale dopo un certo tempo. Il problema è il certo tempo e i tempi di ricorrenza di Poincaré, quando il sistema diventa un sistema macroscopico complicato, diventano dei tempi, non dico neanche astronomici, sono dei tempi superiori alle scale, qualunque scala di tempi che noi possiamo immaginare. Quindi se vi mettete lì e aspettate che la frittata ritorni un uovo, prima o poi succederà, però non garantiamo che questo riuscirete a vederlo voi personalmente. Questa è la riconciliazione che fa il concetto di probabilità in meccanica statistica, che non è ben distinto dal concetto di probabilità in meccanica quantistica, riconcilia la irreversibilità dei fenomeni macroscopici con la reversibilità delle leggi della meccanica, che regola il comportamento dei costituenti elementari della materia. Noi sappiamo oggi che in realtà la legge di inversione del tempo, la simmetria per l'inversione del tempo è violata in certi fenomeni fondamentali, però questo non ha rivedere con la reversibilità o irreversibilità dei fenomeni macroscopici perché c'è sempre quello che si chiama il bilancio dettagliato che protegge la reversibilità, è come meccanica classica. Quindi questa è la cosa, l'entropia è questa cosa qui. Dopodiché però dell'entropia potete dare anche una definizione più formale e queste sono le definizioni più formali dell'energia e dell'entropia che incorporano il primo principio della termodinamica e il secondo principio della termodinamica. E volevo spiegare un momentino, diciamo, con cura perché poi con queste vedremo come si considera il buco nero. In realtà, quando voi siete uno studente e andate ai primi anni di università, la termodinamica è la cosa più difficile che si possa immaginare perché in generale viene spiegata in maniera complessa, per così dire. Vi devo dire che quando io ero studente, il primo incontro con l'entropia fu al corso di chimica e me la spiegare in un modo, io devo dire, non ero d'accordo con quello che diceva il professore. Infatti ho preso un pessimo voto all'esame in chimica, ma sostengo che io avevo ragione, che quello che era scritto sul libro del professore erano delle merite sciocchezze e quindi va bene. Questa formulazione sembra un po' astratta, ma in realtà è veramente quella che fa capire le cose come stanno. Primo principio. Il primo principio riguarda l'energia, questo è facile. L'energia di un sistema è l'energia ed è una funzione dello stato del sistema. Il vostro sistema sta in una certa configurazione, ha una certa energia e quella si chiama una funzione di stato. Non importa come il vostro sistema sia arrivato lì, come ce l'avete portato, scaldandolo, facendolo cadere dal terzo piano, non importa. Quando siete all'equilibrio, il sistema ha una certa energia ed è questo. E ce lo potete portare facendo delle variazioni che corrispondono o a compiere del lavoro sul vostro sistema, delta L, o a compiere a danni del calore. Queste sono le due forme più semplici e più o meno tutto si riconduce a questo. Notate che, per esempio potete comprimerlo, farlo espandere oppure scaldarlo. Scaldarlo in tanti modi diversi, con l'attrito, mettendolo in contatto con un'altra sorgente di calore e così via. E infatti la cosa che è importante sapere è che invece, al contrario di U, delta L e delta Q non sono delle funzioni di stato, cioè sono degli oggetti che non hanno a che vedere con lo stato, ma hanno a che vedere con cosa voi fate sul vostro sistema. Naturalmente la frase, la scritta delta Q tiene il ricordo di altri tempi in cui si pensava che il calore fosse veramente un fluido, il calorico, un fluido che poteva passare da un corpo all'altro, la capacità termica, eccetera. In quel caso ci sarebbe stato qualcosa che si poteva associare al calore. Noi sappiamo oggi che questa è una balla. Il calore è semplicemente un modo per trasferire energia disordinata da un sistema all'altro. Quindi per questo si usa delta, perché D vuol dire che è la variazione di una funzione dei parametri di stato, delta invece vi dice che la semplicità è infinitesima e che è quella che è. Quindi il primo principio della termodinamica si riassume dicendo vabbè, delta L e delta Q separatamente sono delle cose che voi potete agire sul vostro sistema, ma miracolosamente la loro somma è una funzione, è quello che si chiama un differenziale esatto. Questo è il gergo che viene usato, delta L e delta Q non sono differenziali esatti, mentre la loro somma lo è, è un differenziale esatto. E qui allora si innesca tutta una serie di manipolazioni matematiche che portano le varie leggi della termodinamica. Questo è il primo principio. Il secondo principio è più sottile, perché il secondo principio afferma che delta Q non è un differenziale esatto, ma se lo moltiplicate per 1 su T lo diventa. È quello che in gergo si dice 1 su T è un fattore integrante di DQ. Anzi, Lord Kelvin, grande fisico dell'Ottocento, aveva dimostrato che l'unico fattore integrante, l'unica cosa per cui potete moltiplicare delta Q e renderlo una funzione di stato, una variazione della funzione di stato, è proprio la temperatura. E quindi anzi, voi potete a questo punto usare questo trucco, cioè c'è dov'è? Ah, è nell'altra pagina. Va bene, l'unico fattore integrante. Questo è un risultato molto bello, molto interessante, perché è in fondo la definizione più bella che c'è della temperatura. Cos'è la temperatura? La temperatura è quella cosa che rende delta Q un differenziale esatto, cioè che trasforma una quantità che non è la variazione in una cosa che è la variazione. E che cos'è questa cosa di quella variazione? È l'entropia. E qui questa parola REV che è scritto qua si dice che voi dovete misurare delta Q lungo una trasformazione reversibile. Va bene, qui si entra nelle questioni un po' difficili, ma in pratica vuol dire che dovete darglielo molto, molto, molto lentamente. Se voi fate una trasformazione irreversibile, cioè sbattete un pacco di calore lì dentro, trovate qualcosa che è maggiore, delta S è maggiore di quello. E questa vi dice che quindi se voi fate una trasformazione irreversibile su un sistema, delta S deve essere maggiore di zero. Sarebbe zero se la trasformazione fosse reversibile senza calore, ma se la trasformazione in cui non date calore, ma è reversibile, delta S deve essere maggiore di zero. E questo è l'aumento dell'entropia. Va bene. Ecco, questa era l'ultima cosa che volevo dire. Se noi abbiamo un modo per calcolare di S con Boltzmann per esempio, calcoliamo e lo faremo tra un momento, quant'è la variazione del numero di stati e conosciamo DQ, allora a questo punto possiamo definire la temperatura proprio in questo modo qui. T uguale DQ. T uguale delta Q diviso di S. Ora, come ho detto, l'entropia è informazione, quindi voi potete fare una cosa che io ho appreso da un bellissimo libro di Feynman che parla di computing. L'entropia è informazione. Superiore di avere un sistema fatto di bits, cioè n celle in cui ci può essere uno o zero, o uno o zero. Allora, una sequenza di bits fa una parola, nel senso del calcolatore. Fa una parola. Quante parole ci sono se avete n bits? È una cosa molto semplice, ogni bit può stare in due stati, due alla n configurazioni. Secondo Boltzmann, tiriamo fuori questa costante K che è una costante fisica che trasformerà la temperatura in energia e usiamo sigma. Sigma è il logaritmo del numero di configurazioni, quindi logaritmo di due alla n è n logaritmo di due, quindi S e KN logaritmo di due. Quando, se voi aggiungete un bit, le vostre parole aumentano di una cosa, un pezzo, e l'entropia sigma aumenta di logaritmo di due. Ds è K logaritmo di due. Ora, io lavorerò con gli ordini di grandezza, quindi il problema è che n normalmente è un numero sterminato e quindi quello che mi interessa è n, che poi ci sia un logaritmo di due è poco rilevante e infatti, diciamo, dirò che quando incontro cose di questo genere, delta S di un bit è di ordine 1 o, se volete, delta entropia di un bit è K. Questo è la cosa. Adesso, prima ancora di entrare dentro alla storia dei buchi neri, vi devo far vedere alcune considerazioni sulle unità naturali e sulla massa di Planck. la costanza di gravitazione G appare nella formula di Newton. In particolare il potenziale è meno G, M grande, M picco di R e questa è un'energia, ha le dimensioni di un'energia. Se voi usate le unità naturali, questo equivale a mettere C uguale 1, che vuol dire che io misuro l'unità di lunghezza in tempi. Invece di prendere il metro, prendo il tempo che la luce percorre in un secondo. E poi posso usare un po' più astrettamente H tagliato uguale 1. H tagliato è la costante di Planck diviso per 2π. H tagliato ha le dimensioni di un'energia per un tempo. Quindi, così come C può convertire una lunghezza in un tempo, H tagliato vi permette di convertire, per esempio, l'energia in tempi, oppure H tagliato C l'energia in lunghezze. G ha le dimensioni di, lo vedete da qua, energia diviso massa al quadrato moltiplicato per lunghezza. Siccome energia e massa hanno le stesse dimensioni, prendendo C uguale 1 e la lunghezza ha dimensioni di 1 su E, sempre prendendo H tagliato uguale 1, G ha le dimensioni di M alla meno 2 in unità naturali. E questa è la scoperta di Planck. Diamo, nella costante che è l'energia universale, definisce una massa. Anzi, in unità naturale è l'inverso del quadrato di una massa. Quanto vale questa massa? Allora, se voi calcolate quant'è G diviso H tagliato C, andate e vi viene questo numero qui. Questo è 1 su una massa al quadrato, vedete, G ha la meno 2, quindi prendete l'inverso e fate la 10 quadrata, vi viene questo numero in G. La lunghezza è, ci dovete mettere un H tagliato C, e la lunghezza che ottenete da qui vi viene 1,6 in 10 alla meno 20 fermi. Perché ho usato questo fermi? Perché G e fermi sono le unità di misura della fisica nucleare. Un G è la massa del protone e un fermi è il raggio di un protone. E vedete che, quello che notò Planck a suo tempo, che sia la massa di Planck è immensamente più grande della massa del protone, è quasi un grammo, se fosse 10 alla 23 sarebbe un grammo, va bene? E la lunghezza di Planck è straordinariamente più piccola delle dimensioni del protone, 10 alla meno 20 fermi, va bene? Quindi questa è quella che noi chiamiamo il problema della gerarchia. Come facciamo a vivere in un mondo in cui ci siano le differenti forze, di cui poi c'è la forza di gravità che è debolissima su scala delle particelle elementari, infatti vedete che G in unità naturali della fisica nucleare è addirittura 10 alla meno 39, cioè un numero assolutamente impensabile, che però ci portano a delle energie e delle lunghezze così straordinariamente più grandi e più piccole di quelle della fisica nucleare. E vabbè, questo, sono 100 anni che ci stiamo combattendo e ancora non abbiamo avuto. Veniamo adesso al buco nero. Come ho detto, nel buco nero ci possiamo buttare delle cose, un secchio d'acqua, un frigorifero, un televisore, voi che volete, voi state in questa stazione orbitante e oggi buttiamo un televisore. Naturalmente quello che buttate lì è una cosa che ha una certa entropia e se il buco nero inghiottisse queste entropia senza fare niente, l'universo perderebbe in entropia. Quindi avete violato il secondo principio della termodinamica. Naturalmente dici, vabbè, ma io mai andrò su un'astronave, ho capito, però i principi sono fatti per essere rispettati. Se si viola il principio vuol dire che c'è un'altra legge, oppure no. Allora, il signor Beckenstein, che evidentemente era un testardo, nel 1933, concluse che un buco nero deve avere un'entropia, in modo tale che si possa salvare il secondo principio. Cioè, butto dentro un televisore, vabbè, vuol dire che l'entropia che stava prima qui adesso sta là. È nell'entropia del buco nero. Però il problema si scontra con questa cosa del no hair. Cioè, mentre noi lo sappiamo che una scatola che contiene il gas è un oggetto complesso, perché c'è il moto browniana, c'è il moto elementare, lo vediamo, va bene? Il no hair ci dice che visto da fuori il buco nero ha soltanto la massa, il momento angolare e la carica elettrica. E quindi dove sta l'entropia? Dov'è l'entropia? Allora, Beckenstein si pose la domanda giusta. Dice, va bene, supponiamo di mettere, non un televisore, è troppo complicato, di mettere un bit di informazione dentro un buco nero. Come faccio a mettere un bit di informazione dentro un buco nero? Dice, va bene, molto bello. Dice, prendo un fotone e prendo un fotone che abbia solo un bit di informazione, che vuol dire o c'è o non c'è. E questo fotone per avere un solo bit di informazione non può avere complicazioni, deve avere una lunghezza d'onda che è proprio esattamente il raggio di Schwarzschild. Quindi è un fotone che è proprio solo un'onda. Tac, lo prendo e lo butto dentro, va bene? E naturalmente un fotone così fatto ha una certa energia, H nu, nu è uno solo lambda, lambda è RS e quindi l'energia è questa roba qua. H diviso G per M. Questa è l'energia che gli sto dando. La variazione della massa, questo sarebbe il delta Q, se volete, va bene? Poi ce lo ricorderemo. Avete dato un bit di informazione ma anche un bit di energia. La variazione della massa è delta M. E uguale a MC quadro, C uguale a 1 e H diviso RS. Adesso vi ricordo che il raggio di Schwarzschild dipende dalla massa, infatti il raggio è G per M, quindi se la massa è variata, è aumentata, è aumentato anche il raggio. La variazione del raggio è Hg diviso RS, proprio esattamente questa roba. E la variazione dell'area è, come tutti sanno, R per dr, perché se voi avete un cerchio di raggio R, l'area è πr quadro. Ecco perché mi sono sbagliato un fattore 2, perché l'area è πr quadro, non 2πr quadro, va bene. Oggi è il caso di ricostruire la formula di Hawking e mi sono sbagliato. Vede, è scritto qui, è sbagliata, è πr quadro. Allora, quanto varia se voi variate R di un pezzetto? Beh, se voi variate un pezzetto vuol dire che gli aggiungete una corona di altezza di R e di base 2πr, che è il caso. Quindi la variazione dell'area è 2πr per dr. Quindi per la variazione dell'area deve fare R per Δr. Ma R per Δr, siccome Δr è 1 su R, R per Δr non c'è più niente, è G. E G equivale a, G è 1 su Lp al quadrato, quindi è Lp, è la lunghezza di Planck al quadrato, cioè è un'area di Planck. Quindi un bit di informazione corrisponde a un'area di L Planck. L Planck al quadrato. Allora, se la vostra black hole contiene n bits, la sua area sarà n volte L Planck al quadrato. Quindi l'entropia sarà K volte area diviso L Planck al quadrato. Tac, Gm quadro. Tac. Questa è l'entropia. Cioè, in altre parole, è vero che la buco nero non ha peli, però ha una massa. E quando gli mandate un bit, è inesorabile che questo bit porti un'unità di massa, che è 1 su R. E questa massa aumenta e aumenta l'area. Ora, Hawking aveva trovato effettivamente che l'area del buco nero ha una proprietà molto simile a quella dell'entropia. Per esempio, cresce quando si hanno le collisioni e così via. E beh, che stai spiegando perché, va bene? Perché l'area è l'entropia. L'entropia è misurata in unità della lunghezza di Planck. Ma allora, se noi conosciamo delta Q, che è questo, e conosciamo la variazione di sigma, che è 1, perché questo delta Q corrisponde a 1 bit, quanta è la temperatura? E beh, la temperatura è dQ su dS, perché dS deve essere uguale a dQ diviso T. Quindi, se io faccio la mia variazione di energia, mettendo sto fotone con 1 bit, diviso la variazione dell'entropia, che è 1 bit, trovo H diviso gm, cioè m quadro Planck diviso la massa, e questa è la temperatura. Tac! Abbiamo trovato la temperatura un po' nero. Abbiamo trovato l'entropia, sappiamo quanto è l'energia che corrisponde alla variazione di 1 bit di entropia, e quindi abbiamo dato questo. E questo è proprio il risultato di O. O, se andate a guardare sui libri, a meno di un fattore 8 pi greco, eccetera, è proprio questo. KT è 1 su 8 pi greco gm. Questo è scritto già in un'unità naturale, quindi questo H è diventato 2 pi greco. Insomma, non importa. È questo, va bene? Anzi, oggi ho cercato di calcolarmi, ma mi sono sbagliato, perché l'area della cosa è pi greco, è r quadro e non 2 pi greco. E questa temperatura è interessante per due motivi. Prima di tutto, se prendo il sole, vabbè, se prendo il sole mi viene una temperatura stragrandemente piccola, 10 alla meno 8 gradi Kelvin. La temperatura dell'universo è 3 gradi Kelvin, quindi diciamo, è freddissimo. Un buco nero che abbia la massa del sole è freddissimo, ma anche un buco nero che abbia la massa di un milione di volte, la massa del sole, no, è pure peggio, perché naturalmente la massa e la temperatura è inversamente forse alla massa. Quindi diciamo, questo è il meglio che potete fare, va bene? Pertanto, questi buchi neri, cosa sono? Sono degli oggetti che hanno una certa temperatura, fissata da occhi, temperatura bassissima, questo non ha importanza, e quindi irraggiano. Irraggiano perché la temperatura è un corpo nero, nel senso del corpo nero quello dell'Ottocento, cioè un oggetto che emette energia termica. Naturalmente la temperatura è talmente piccola che noi non la vediamo, anzi noi vediamo i buchi neri succhiare energia, stanno mangiando le stelle circostanti che gli cadono dentro e gli aumentano l'energia e diminuiscono la temperatura. È un fatto paradossale, ma è così. Quindi un buco nero si comporta come un corpo nero a temperatura T, e non è assolutamente nero, perché irraggia energia con l'aspetto di Planck. Ma naturalmente la temperatura è talmente bassa che non ci sono implicazioni pratiche al momento. Qui c'è stata poi tutta una serie di sviluppi successivi, c'è stata una lunga controversia tra Hawkins, Toft e Susskind, Hawkins non credeva che la termodinamica resistesse fino alla fine, mentre invece alla fine i vari modelli di buchi neri fatti con le stringhe hanno mostrato che effettivamente tutto funziona perfettamente, o quantomeno con un certo numero di congetture si può trovare questo. Epilogo. Quando i buchi neri al centro della grazia saranno mangiati tutte le stelle e tutti i gas, e quando la temperatura del cosmo sarà scesa al di sotto della temperatura di occhi dei buchi neri, i buchi neri cominceranno a irraggiare. Il raggiamento diminuisce la massa, la temperatura sale, l'irraggiamento cresce. Alla fine i buchi neri evaporeranno. ritornando allo stato dell'universo iniziale, il fatto di una radiazione di corpo nero senza altre cose. Naturalmente non sto a dirvi tra quanti miliardi di anni questo succederà, diciamo, stiamo parlando di cose che sono 10 alla 60 anni, qualcosa di questo genere. Però c'è una cosa che mi colpisce, cioè quando evapora il buco nero, diciamo, lui aveva un certo numero di cose che non possono evaporare, per esempio la carica elettrica, ma la carica elettrica totale è zero, quindi niente. Il momento angolare non importa. Ma che fine fa il numero barionico? Perché, diciamo, se il nostro buco nero è fatto di idrogeno, poi trasformato in neutroni, eccetera, ha un certo numero barionico, ma a parità di massa, se fosse fatto di elio, avrebbe un numero diverso. E nel teorema Nohair, il numero barionico è scomparso. È quello che dicono i relativisti, dice, se è fatto di peanut butter o di ferro è la stessa cosa. Ma allora noi vediamo che il numero barionico invece si conserva. E questo vi devo dire che io non ci avevo mai pensato e non ho ancora trovato con me stesso la conclusione e non ho avuto il tempo di consultare gli esperti, però la conclusione che io posso fare è che questo argomento sembra dire che non ci sono leggi di conservazione assolute per quei numeri quantici che non sono accoppiati a campi di gas di massa zero, come la carica elettrica, il momento angolare e la massa, che sono accoppiati alle simmetrie della relatività generale e della elettrodinamica. Ma questo è proprio l'argomento che ha condotto a Sakharov a pensare che se l'universo partiva da uno stato simmetrico, il numero barionico sarebbe stato violato e questo è quello che ha prodotto la nostra stessa vera esistenza, perché in un mondo completamente simmetrico materia e antimateria noi non ci saremmo proprio, sarebbe tutto anichilato. Quindi sembrerebbe che questo problema dell'evaporazione dei buchi neri ci riporti esattamente allo stesso argomento, cioè le leggi di conservazione che non sono associate a forze al lungo raggio non valgono. Alla fine, dentro al buco nero vengono cancellate. E quindi, così come l'universo è partito nel Big Bang da uno stato simmetrico ed è evoluto in uno stato antisimmetrico, così l'universo passa attraverso il buco nero e ritorna in uno stato simmetrico. Sembra una conclusione molto interessante, ci penserò sopra e poi semmai vi farò sapere cosa ne pensano. C'è una regola aurea dei seminari che dice che lo speaker verso la fine del seminario può parlare anche di cose che personalmente non capisce e poi deve tacere. È arrivato il momento. Grazie. Avremo tempo per un paio di domande, ero cinque da andar via, ma ci sarebbe tempo per una discussione. Avete domande? Prego. Professore, nella termodinamica statistica si parla di due statistiche, di Bose-Einstein e la statistica di Fermi di Rack, giusto? Sì. Ecco, nel buco nero valgono ancora queste statistiche? Beh, ma i buchi neri non hanno, cioè, non è che io posso studiare che succede quando scambio due buchi neri. Il gas di buchi neri non l'abbiamo ancora considerato che certamente non saranno mai uguali, nel senso che la massa ha una distribuzione praticamente continua. Quindi, invece, cosa succeda dentro il buco nero? però l'entropia evidentemente conta solo, almeno per quello che vediamo da questi argomenti, l'entropia conta solo quant'è l'orizzonte, quant'è l'area dell'orizzonte. Non dice c'è un orizzonte fatto di fermioni o un orizzonte fatto di bosoni. Non c'è questa cosa. E quindi, non saprei, ma non mi sembra che questo intervenga. Mi informerò. Altre domande? Va bene. Spero di avervi interessato. Ci sono due libri che hanno confortato i miei dubbi esistenziali. Uno, li ho messi di sopra, uno è il libro di Kip Thorne, Black Holes and Time Warps. È un libro che io ho letto un tempo fa e non avevo capito molto, ma invece l'ho riletto adesso e mi è sembrato molto ben fatto, soprattutto da un punto di vista storico. Cioè, vi racconta proprio tutta la storia di come sono andate le cose e Willer e Delzoni, c'è la scoperta delle radioastronomie, eccetera. Quindi, diciamo, è un libro che vi consiglierei. Poi c'è un altro libro molto più sofisticato che si chiama La guerra dei buchi neri che è scritto da Suskir, che è uno di quelli che ho citato alla fine del discorso e che è insieme con Toft ha portato avanti questa controversia da insieme con Hawking. Devo dire che è fatto molto bene, per esempio è lì che si capisce l'argomento di Bekenstein, lo spiega molto bene e si capisce benissimo come si arriva all'entropria del buco nero, ma non dice che loro hanno vinto la guerra dei buchi neri ma non si capisce come. E quindi, diciamo, questo francamente l'ho riletto due volte ma a un certo punto sì abbiamo vinto abbiamo vinto ed è presumibilmente questa questione del principio olografico che non è molto chiaro. Il principio olografico dice che tutta l'informazione della gravità quantistica nello spazio di anti-desister però è contenuta in una teoria di dimensionalità inferiore. È come se tutta l'informazione che sta in questa stanza dovesse essere tale da poter essere immagazzinata sulle superfici di questa stanza. E questo è un principio molto profondo che sostanzialmente è stato in qualche forma inventato da questo fisico argentino di nome Maldacena che è uno degli eroi della presenza fisica quanto gravitazionale che però vi debbo dire non domino non fa parte delle mie conoscenze però diciamo è un argomento molto interessante forse i giovincelli che sono qui magari più avanti lo capiranno meglio però insomma questo è comunque il libro di Suskin è comunque ugualmente molto illustrativo sicuramente ci sono anche un sacco di cose quindi non è di lettura tanto facile di un sacco di cose di un sacco di cose Grazie.